Ciao, oggi fai un trucco più romantico. Inizio stendendo la crema fluida all'olio di argan di Leo Crema, totalmente biologica. E lo metto su tutto il viso. Un trucco che oggi fai un'olio più romantico. È ispirato sia alla primavera, ai colori accesi in questa stagione, ma anche al romanticismo che di solito nasce con i fiori. Il mio cacao che uso per le lab e con i legami della poluzione smart, natural, un tipo di palm, chiamato super richiesto, ovviamente non sa di lavora. Poi, adesso faccio gli occhi, uso tutti i pennelli della Snap, natural, inizio a mettere i primer di Benecos, natural beauty, natural eyeshadow base, anche questo biologico. E' natural. Lo metto sia sulla propria fissa, che un po' sul test, se fosse bella mobile. Per l'occhio, uso un palette Berrium Velvest di Primark, con i colori romantici. Mi metto inizialmente una base bianca brillantata, i colori schema base. Poi, con l'altro pennello, vado a mettere il detail, che è un rosa, un po' brillantinato, ma di meno degli agi. E lo metto tra la piega della palpebra mobile e poi la fissa, per valorizzare la palpebra, ma nello stesso momento agli occhi. Perché, anche se nel video i miei occhi sono marroni, in realtà da vicino sono belli. Poi, vado con il pennello, a prendere quello di fianco, che è Wild Hearts, che è un po' brillantato, ma più che brillantato è metallizzato. Anche questo è un rosa scuro. Adesso vado a mettere una parte finale della palpebra mobile. E poi vado a mettere al centro palpebra Sweetness, che è un rosa pallido, l'unico colore neutrale di questa palette, l'unico senza brillantini a essere metallizzato. Cioè, per virgolette, è l'unico matte. Poi, con un pennello un po' più da sommatura, vado a prendere Humbler, che è un colore rosa pallidissimo, più brillantini che altro, e vado a metterlo al centro dell'occhio. Ho fatto questo, con un altro pennello che non voglio mucire, ormai, vado con il Selfish, che è un rosa tornata viola, anche questo brillantinato. Ho fatto questo, metto il mascara, che è di Essence, il Laces of Today, Super Volume Mascara, perché le mie ciglia sono già lunghe. di suo. Io non metto le liner, perché sono rata da metterle. per i fondotinta, uso quello di Kiko, il Smart Tee, Giatting Fondution, colori 0,1, guardo il rosso. La metto per la mano prima, che è secolare, ma credo che è un deline pensone per altri ventagli, anche se io non mi sono solitato. C'è un pazzone, va bene. Adesso questo colore può sembrare un po' più chiaro rispetto a mia pelle, solo perché tenendo, portando la mia sorellina fuori al sole, mi sono agonizzato un po' anch'io, ma di solito l'inverno è anche un po' più scuro, mi sa che la mia pelle è già un po' più scuro, ma mi sa che la mia pelle è già un po' più scuro. La metto solo sui brufoli e sulle occhiaie, che per genetica di famiglia non sono oscure, ma profonde si vedono, soprattutto da vicino. La metto solo sui brufoli e sulle occhiaie, che per genetica di famiglie non sono oscure, ma profonde si vedono, come anzi se non ci vedono, ma raccogliano non sono oscure, ma rocchiaie, che per genetica di famiglia non sono a partire, è anche se la mia solle. Poi la cipria di Marquise, questo non è un po' di città comune da dire, lo metterò sotto, però è molto pallido. Questo colore ha tutti i toni sul vellante. Poi con il pennello largo, dopo aver usato la stessa beauty blender ma dall'altra parte, vado a metterlo un po' su tutta la faccia, soprattutto sulle zone delle guance perché è la parte più grassa della mia pelle che è questa grassa. Poi metto il present, la crema di Rest Rochen, un po' di sole, un po' di fronte, un po' di fronte, un po' di fronte, una parte più piccola, un po' di fronte, un po' di fronte, un po' di fronte, un po' di fronte. Lo metto oltre che sulle guance, lo metto anche un po' per delineare la linea del naso. Per il blush o cold, uso quello della snap, luce di make up, del colore 01 che è un annuncino brillantato. Questo poco perché è molto carico, anche nella scatolina che si viene usato e dentro si trova già un pennello. lo metto ovviamente anche un po' sul naso, sempre, e vicino a delle nab. Lo metto ovviamente anche un po' sul naso, sempre, e vicino a delle nab. Un po' questo ho dovuto mettere l'obietto anche sotto l'occhio per cercare il più piccolo possibile, perché non ho le linea, mettendo il really the hardest. un po' di fronte, un po' di fronte, un po' di fronte, un po' di fronte. e il naso ha l'altro luce in tex, il crush, anche questo è più brillantini che altro, però lo uso un po' di muscolo, un po' di fronte, un po' di fronte. Poi, per tinta labbra uso sempre marquins, lo uso quasi carne, anche questo è un po' romantico. Sperate questo video vi sia piaciuto, se è piaciuto lasciate un mi piace. Grazie.